Il canadese Kyle Croxol si aggiudica la tappa del crash da ice svolta sia di Vashkla in Finlandia. Il trentenne torna al successo che mancava dal 2015 approfittando di una caduta del fratello Scott, sopravanzando l'idolo di casa Mirko Lati. Quest'ultimo accusa ora un ritardo di 37 punti e mezzo proprio da Croxol in previsione dell'ultima gara invernale che si disputerà il 9 febbraio prossimo a Boston. In ambito femminile su tutta la statunitense Amanda Transo che ottiene il terzo successo consecutivo in Finlandia. La vincitrice supera largamente l'elvetica Anaïs Moran e la canadese Myriam Trepanier a seguire la leader del campionato del mondo, la canadese Jacqueline Leger.